I contributi degli enti pubblici che vengono dati molte volte senza una rendicontazione ben precisa, perché per carità anche noi abbiamo partecipato a progetti, perché noi siamo tutti volontari nella mia associazione, noi non è che ci siamo mai pagati, ne ci pagheremo mai. Quando parliamo di antimafia parliamo di una cosa molto seria, perché è molto seria, perché sia la mafia che l'antimafia hanno a che fare con un evento che si chiama morte, con qualcosa che si chiama sangue e quindi non ci possiamo permettere di scherzare, né di scherzare né di truffare. Ci sono persone o associazioni che prendono contributi, fanno affari e parlano di antimafia. Il guaio è che in alcuni casi anche le istituzioni danno il loro credito. Era il 26 settembre 2015, Adriana Musella, presidente dell'Associazione Riferimenti, ospite negli studi di LAC per la trasmissione 30 minuti, parlava di antimafia, mafia ed affari. Non avrebbe mai immaginato che due anni dopo proprio lei e la sua associazione sarebbero finite al centro di un'inchiesta giudiziaria della Procura di Reggio Calabria, per appropriazione in debita e malversazione. Il GIP ha convalidato il sequestro preventivo di beni, eseguito dalla Guardia di Finanza per la somma di 20.000 euro. La montava inizialmente a 75.000 euro, ma è stato poi ridotto poiché la prescrizione ha salvato parte dei reati dal futuro processo. Ma dalle carte del GIP e dalle ricevute di acquisto trovate nella contabilità dell'Associazione Antimafia della Musella, lo spaccato che ne viene fuori è poco edificante. Viaggi privati, libri da cucina, ristorante, taxi, oggetti in oro, stecchi di sigarette per il figlio, elettrodomestici e arredi all'IKEA, spese per le quali di Ramusella si trova oggi nei guai. Giuseppe Baglivo per la CNews24.